Parla tifoso dell'Azzurra, portando un'altra calda notizia sulla nostra squadra. E oggi parleremo del futuro di uno dei giocatori più amati della squadra, il messicano Irving Lozzano. Secondo il suocero e consulente di Lozzano, Rodrigo Obregon, il giocatore è molto felice ed entusiasta della fase attuale del Napoli, che si sta disputando il titolo di campione d'Italia. Il messicano ha sempre puntato a vincere lo scudetto e vedere realizzato quel sogno per lui e per tutta la sua famiglia è un grande traguardo. Ma quello che tutti vogliamo sapere è, Lozzano resterà al Napoli? Secondo Obregon, al momento non ci sono offerte da altri club e la famiglia del giocatore si è adattata molto bene alla città di Napoli. Il contratto del messicano però scade nel 2024 e dovrebbe rinnovare con il Napoli per restare all'ombra del Vesuvio e continuare a brillare in maglia azzurra. E tu tifoso napoletano! Cosa ne pensi del futuro di Lozzano? Mi piacerebbe vedere il giocatore rinnovare con il club e aiutare la squadra a vincere ancora più titoli. Lascia la tua opinione nei commenti e non dimenticare di mettere mi piace e condividere questo video con i tuoi amici napoletani. Per ora possiamo stare tranquilli sul futuro di Irving Lozzano al Napoli, visto che non ci sono offerte da altri club e la famiglia del giocatore è felice in città, ma è importante che la squadra pianifichi di rinnovare il contratto del messicano prima che scada nel 2024 per assicurarsi che rimanga uno dei pilastri della squadra. E tu tifoso azzurro, cosa ti aspetti dal futuro di Lozzano al club? Pensi che continuerà a brillare e ad aiutare la squadra a vincere titoli? Lascia la tua opinione nei commenti e tifiamo insieme per il successo della nostra cara squadra. Forza Napoli sempre!